Non è la prima volta che parliamo di scelte dentro Panorama Basket, né negli anni passati, né in questa quattordicesima edizione, però questa sera lo faremo, lo faremo assolutamente, perché ci sono scelte a volte inaspettate, scelte difficili da prendere, scelte che poi si rivelano più o meno felici e fortunate, scelte a volte che sono anche quelle di non scegliere, per dare il tempo ovviamente di maturare le condizioni, scelta, non scelta, non siamo Kierkegaard che si interroga su questa cosa, parliamo semplicemente di basket, ma di questo vogliamo parlare, assieme a tante altre questioni, questa sera qui in diretta con voi. Panorama Basket sta per partire. 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 Sì, vita etica, vita estetica, come dicevo non siamo Kierkegaard, però vogliamo entrare un po' Nel cuore di tante vicende, di tante vicissitudini a volte che riguardano la pallacanestro romagnola Ma la vostra scelta è sempre quella di fare entrare la pallacanestro in casa vostra tutti i martedì sera Quest'oggi direi a maggiore ragione, lo scoprirete presto La mia scelta in passato è stata quella di lasciare la carriera d'attore Credo di aver preso la scelta giusta così come la scelta giusta tutti i martedì E' quella di avere Francesca Picchera al mio fianco Ciao Enrico, grazie e buonasera a tutti A lei Francesca, allora oggi veramente abbiamo tante cose da dire per voi e con i nostri ospiti Quindi andiamo subito a capire e a presentare chi ci tiene a compagnia Sì Enrico, comincio subito a svelarvi chi è in studio qui con noi questa sera Allora comincio ringraziando e dando il benvenuto al capitano del basket Ravenna Daniele Cincerini Ciao Daniele Buonasera, grazie dell'invito E ci svelerai poi tutti i segreti per questo meraviglioso avvio di stagione della tua squadra Senz'altro Accanto invece a Daniele ringraziamo tantissimo per essere questa sera con noi Per poterci poi spiegare che cosa sta accadendo alla sua Forlì in un momento così delicato e difficile Il general manager dei Biancorossi Renato Pasquali Ciao Renato e grazie Buonasera a tutti Ringrazio ovviamente sia Renato che Daniele per la loro disponibilità Però Francesca anche questa settimana, anche questo martedì avremo la possibilità di collegarci con una persona che vive un momento altrettanto felice rispetto a quella di Daniele Dici, dici bene Enrico perché parleremo di Imola che è veramente la sorpresa di questo campionato di Serie B e lo faremo insieme al suo vice allenatore Mauro Zappi Assolutamente Noi non siamo Facebook, siamo un programma televisivo, in questo programma televisivo vanno spunti importanti di analisi e di discussione, tutto ciò che esula da questo non verrà messo in onda Mi assumo la responsabilità di dirlo, però Francesca come mandare i messaggi? Giustamente Enrico, il numero è sempre lo stesso ed è 334-60-91869 E poi proprio perché invece noi vogliamo anche essere onesti intellettualmente e chiedere la vostra opinione in maniera chiara e netta ci sono i nostri sondaggi e le nostre domande su Instagram Esatto, infatti andate su Instagram, seguiteci, se già non lo fate andate a rispondere ai nostri sondaggi ma soprattutto alle nostre domande Allora comincio proprio da questa, abbiamo detto parliamo di Forlì questa sera Allora noi vi chiediamo questo, quale tra alcuni limiti che i bianco-rossi stanno evidenziando è quello più evidente o più condizionante secondo voi? Noi ne abbiamo scelti quattro, diteci quale di questi secondo voi è quello più importante? Atletismo, gioco interno, attacco in uno contro uno o cinismo e personalità? Diteci ovviamente cosa ne pensate, poi ovviamente ne parleremo anche con Renato qui in studio Assolutamente, poi Francesca non possiamo esimerci anche dai nostri e soprattutto vostri pronostici Abbiamo scelto una partita, un derby, uno che caratterizzerà moltissimo la prossima giornata del campionato di Serie B Quello tra Andrea Costa, Imola e Raggi, Solaris, Faenza, partita molto importante, ditesi semplicemente chi la vincerà? Detto questo andiamo a scoprire invece chi ha vinto e chi non ha vinto, ovvero sia come è andata la giornata del campionato Francesca svelacelo Sì, allora partiamo subito, si consolida il primato in classifica della coppia di testa Scaffati Ravenna dopo il nono turno del campionato di Serie A2 vincendo rispettivamente Fabriano e Sansevero in una sfida dal finale bollente le due capolista hanno ora 5 punti di vantaggio su Verona prima delle inseguitrici Stecca infatti la pallacanestro Forlì in casa con Latina e ora dopo due battute d'arresto consecutive diventa fondamentale la trasferta di domenica a Chiusi I giallorossi invece sono attesi dalla Stella Azzurra Roma in quello che è un derby per l'ex direttore generale Julio Trovato In Serie B continua invece il momento magico dell'Andrea Costa Imola che pur senza il suo leader Emanuele Trapani vince anche a Teramo dopo una vibrante testa a testa e rimane nel gruppo delle seconde a un passo dalla regina Roseto Nessun problema per Rimini a sbarazzarsi di Giulianova mentre Faenza nel secondo tempo fa lo strappo vincente con Monte Granaro e ritrova il sorriso quello che Senigallia con un'ottima prestazione dal primo all'ultimo minuto della gara di Cesena ha invece spento sul volto dei Tigers Ora il campionato cadetto è atteso dagli straordinari si giocherà infatti sia domenica che mercoledì e il club è il derby di Imola tra Andrea Costa e Raggi Solaris Esattamente, io vi dico anche che in questa settimana c'era una partita molto attesa a Faenza dove Basket Project affrontava la Virtus e Segafredo Bologna tantissima gente ad assistere a questo match è davvero un bellissimo segnale ha vinto la Virtus con Zandalasini e compagni che ovviamente hanno impresso il loro marchio sulla partita però davvero vedere tanta tanta gente a Faenza ad assistere a questo match è stato davvero un bellissimo vedere Detto questo iniziamo a parlare ovviamente dei temi della settimana e partendo in rigoroso ordine di classifica con il capitano giallorosso Daniele Cinciarini Daniele Iero Domenica a Ravenna vedere il vostro match con Sansevero un match che avevate indirizzato bene in partenza diciamo che fino alla chiusura del terzo periodo di gioco è stato un match fondamentalmente in controllo e dopo però qualche brivido di troppo Coach Lo Tesoriere a fine match ha detto però anche queste partite forse la prima partita con finale punto a punto che abbiamo giocato in questo inizio di campionato servono e questa è servita Sì, sicuramente ha dimostrato ancora una volta che abbiamo questo gruppo già dal precampionato solidità mentale molto importante nei momenti cruciali abbiamo subito un brutto parziale non so se perché magari ci siamo adagiati che eravano sopra di 12 o comunque stranamente era successa una cosa così finora e devo dire che ci sono stati bravi a riprenderci poi magari ecco se lo fai con Scafati o con altre squadre magari non ti va a finire nello stesso modo anche perché con tutto il rispetto per Sansevero che comunque sta facendo un bel campionato rispetto all'anno scorso e si sta dimostrando anche temibile perché non avendo tanto talento ma poi pur giocando voglio sottolineare con un solo americano ma un gruppo di italiani di serie B praticamente che sono scafati già esperti qualche tiratore hanno provato a metterci in difficoltà ecco arrivando fino al sorpasso più uno ricordo e dopo ecco noi siamo una squadra rispetto a loro più di talento e anche più fisica alla fine siamo emersi ecco però diciamo più per dei meriti nostri siamo arrivati a giocarcela lì diciamo che Sansevero ha utilizzato con arma tattica anche una zona una zona molto aggressiva che obiettivamente non si batte con le percentuali che avete avuto nel tiro dalla distanza mentre invece i pugliesi hanno avuto delle percentuali molto alte nel tiro da tre punti è vero che però nel momento in cui siete stati per un attimo con le spalle al muro avete ritrovato le vostre certezze cioè aggressività difensiva palle recuperate da Tivigman e Doxiglia e quelle sono state basilari sono squadre queste come Sansevero sono squadre difficili da scoutizzare perché anche la difesa che fanno era una zona ma match up uomo quindi all'inizio quando l'hanno fatta che si sono rifatti sotto diciamo che bastava semplicemente giocare organizzati perché l'organizzazione contro queste squadre è fondamentale loro la buttano sulla raffa sul caos sai non avendo il talento nostro cercano di fare qualcosa sicuramente abbiamo chiuso benissimo Sabin che è il miglior marcatore del nostro girone e quando chiudi lui gli altri hanno provato a fare qualcosa con grande personalità da sottolineare il gruppo degli italiani grande personalità però ecco la differenza tra le due squadre è evidente mi dici una cosa poi sui segreti di questo successo che sta avendo Ravenna in queste prime di campionato entreremo anche più compiutamente una cosa che io non mi aspettavo guardando la squadra sulla carta è che fossero così diciamo intensi solidi se di prima rimbalzo offensivo ad esempio sotto canestro Simione a propensione esterna o almeno adesso sta avendo una propensione più interna nelle ultime due stagioni rispetto a quello che aveva in passato Gazzotti a propensione esterna Sullivan lo conoscevamo poco invece quello che poteva essere un limite invece sta tramutando in una vostra forza sì diciamo che il sistema del nostro coach vuole un equilibrio tra il gioco interno e il gioco esterno abbiamo tutti i centri che possono giocare sia centro che esterni in pratica quindi a seconda dell'eventualità della situazione di gioco possiamo ecco girarli anche lo stesso Xilia che gioca da 4 prende molti rimbalzi siamo una squadra poi anche molto multidimensionale possiamo giocare in più ruoli quindi sicuramente questo è un grande aiuto però ecco siccome abbiamo tutti anche i nostri lunghi che possono giocare anche sul perimetro però ci vuole qualcuno che è dentro però ci potete andare anche con gli esterni ci può andare Xilia sicuramente con le squadre undersize abbiamo incontrato anche Sansevero c'erano guardie piccole anche con la stessa Fabriano da loro abbiamo vinto anche giocando molto con il spalla canestro con i piccoli da me a Tilman a Tommaso Xilia quindi tutti possiamo giocare ecco abbiamo varie carte varie carte da giocare stai dimostrando una vena veramente parecchie invece adesso io passo a te Renato la prima cosa che ti chiedo allora la partita di ieri perché si è giocato appunto martedì l'abbiamo vista e la analizzeremo però prima di tutto ti chiedo che giornata è stata questa per te la società insomma è stata una giornata di confronti di analisi di dibattiti oppure no cioè che tipo di giornata è stata questo mercoledì sicuramente delle chiacchiere sono state fatte tra la società e l'allenatore tra il presidente e la società il presidente e l'allenatore e va detto che non siamo contenti noi per primi credo che nessuno possa dire che siamo contenti di dove siamo oggi e non però vorrei anche sottolineare che al di là della partita di ieri che non è stata una bella partita da vedere non dimentichiamo che nell'ultimo mese la squadra ha performato bene ha fatto delle buone partite perché quando tu giochi una partita contro la prima in classifica contro scappati dominiamo la partita perché va detto che noi abbiamo dominato la partita abbiamo sempre tenuto a testa avanti siamo stati fra gli 8 e i 12 punti di vantaggio non abbiamo mai avremmo potuto giocare o no non avremmo perso mai e poi ci troviamo la squadra di ieri e ti viene da parte delle domande ecco ma una te la faccio direttamente Renato ti chiedo proprio perché è stata una sconfitta inattesa e deludente sotto parecchi punti di vista quale soprattutto diciamo dei tanti fattori diciamo qual è stata la delusione principale proprio in virtù di quello che mi hai appena detto cioè io fino a ieri pomeriggio anche la sconfitta con Ferrara la ritenevo un incidente di percorso in un percorso di crescita avevamo giocato comunque una partita onorevole avevamo giocato la nostra partita assolutamente nel senso si vedeva una squadra in crescita quello di ieri è stato un po' uno shock per chi l'ha visto cosa ti ha deluso di più? allora va detto che una cosa che non ha detto l'allenatore in conferenza stampa è da un lato gli devo dare merito perché non ha voluto nascondersi dietro nessuna giustificazione io dico che se noi anziché spostare la partita il martedì per motivi di campionato di qualificazione FIBA l'avessimo giocata domenica noi arrivati a giovedì non ci siamo allenati non ci siamo allenati perché Ace era infortunato Giacchetti ha avuto problemi di stomaco di disenteria Pulazzi era nazionale ne abbiamo uno infortunato fuori fino alla fine stagione e poi c'era praticamente ci siamo allenati in 4 o 5 giovedì era previsto allenamento e venerdì riposo abbiamo pensato di spostare il riposo a giovedì per poter allenare venerdì venerdì è arrivato Pulazzi con il mal di schiena e non si è allenato è arrivato Palumbo con il mal di schiena e non si è allenato e entrambi hanno fatto mezzo allenamento sabato no neanche sabato hanno fatto mezzo allenamento domenica e mezzo allenamento lunedì quindi va detto che negli ultimi dieci giorni la squadra non ha potuto allenarsi questa è l'unica cosa diversa che è accaduto che è accaduto negli ultimi dieci giorni rispetto al mese precedente ora questo giustifica la performance di ieri io credo di no però un pochino provo anche a dire non siamo stati fortunati questa settimana qua detto questo c'è stato un episodio poi durante la partita che ci ha fatto pensare che forse avremmo potuto essere un po' più prudenti quando sono andati allo spogliatoio alla fine del primo tempo con meno 6 probabilmente qualche cosa è successo con lo spogliatoio perché la squadra è rientrata nel secondo tempo e si è passati dal meno 6 al più 8 con tutto un altro ritmo tutto un altro atteggiamento e tutta un'altra intensità sì ma infatti secondo me Renato questa partita va un po' analizzata per fasi no Francesca vero? perché ci sono state fasi distinte all'interno della partita sì fasi distinte però diciamo che sin dall'inizio era un po' apparso quello che sarebbe stato non dico proprio il destino di questa partita però la squadra almeno a me è apparsa molto più flaccida più già stanca senza mordente e volevo capire se anche tu Renato ti sei posto questa domanda e ti sei dato una qualche risposta dice che è dovuto solo ed esclusivamente al discorso degli allenamenti devo pensare che sia così perché le altre settimane dove ci siamo allenati più o meno regolarmente nell'ultimo mese abbiamo fatto tutt'altro tutte altre prestazioni ecco va detto che quell'intensità lì va allenata cioè per performare un certo però ripeto l'allenatore non ha voluto campare giustificazione nella conferenza stampa di fine partita e io non voglio pensare che sia che sia quella la giustificazione nonostante quello devo dire che quando siamo andati a più 8 abbiamo fatto capire che quelli che avevano qualcosa in più eravamo noi poi è finita la birra e quindi siamo calati anche fisicamente ci può stare io credo che non abbiamo giocatori che non pensino di vincere le partite o che non vanno e vadano in campo per non vincere le partite però può succedere che magari non sei nel momento di condizione fisica migliore e noi nel caso di nostro di ieri sera avevamo più di un giocatore che non era in condizioni fisiche migliori perfetto anche perché appunto di questo ne abbiamo parlato anche con Enrico perché ci sembrava veramente molto molto strano vedere una squadra così altalenante e ci siamo anche chiesti ma è possibile che per far terminare la birra utilizzando un po' i tuoi termini sia bastato un canestro da tre così decisivo cioè è stato questo effettivamente quello che ha fatto tremare psicologicamente e fisicamente la squadra è possibile che arrivati così tanto avanti dopo tanto lavoro basti veramente solo questo per mettere in crisi totale una squadra perché obiettivamente Renato quel come hai detto giustamente te nel terzo quarto la squadra ha cambiato volto poi più otto all'inizio del quarto quarto Forlì sembra avere la partita in mano ma Giacchetti aveva già giocato troppi minuti fino a quel momento perché dopo il canestro di Radonic è proprio cambiato completamente il volto della squadra sembra quasi che a loro abbia dato l'input per continuare a crederci e a noi abbia tagliato le gambe perché fino a quel momento lì sul più otto quella bomba da metà campo ha cambiato la partita indubbiamente però ripeto nessuna giustificazione io credo che noi abbiamo dei giocatori che possano comunque performare meglio di quello che è successo ieri sera però quella passività finale come te la spieghi anche mentalmente probabilmente quello lì è quello che succede ai ciclisti quando per per Chilonti provano a passare quello che gli sta davanti vedono che non ci riescono e gli ultimi 500 metri mollano ecco forse è successo questo anche a noi ma ripeto le critiche che noi subiamo in questi giorni oggi le trovo tutte legittime credo che noi dobbiamo essere responsabili di quello che è accaduto assumersi le nostre responsabilità e cercare di capire che cosa non è andato bene e provare a correggere ecco dopo infatti su questo ovviamente ci andiamo però Francesca abbiamo Renato stesso ha citato uno dei protagonisti mancati parliamo di Kenny Ace parliamo di Kenny Ace infatti volevo volevo proprio chiederti Renato lui non poteva proprio giocare quali sono le sue condizioni fisiche attuali quando potrete riprenderlo? Kenny oggi ha fatto un lavoro individuale sul campo dopo 12 giorni 14 giorni perché non si allena fa solo lavoro in acqua e lavoro a parte domani avrà una risonanza magnetica e ci dirà un po' com'è la situazione siamo abbastanza positivi perché diciamo il dolore viene sempre meno e il giocatore si è posto come obiettivo di provare a giocare domenica e noi pian piano adesso in questi tre giorni proveremo a inserirlo un po' per volta e per capire se quanto ci può dare domenica e se ci può dare qualcosa già domenica consideriamo che domenica sicuramente non avremo Lorenzo Benvenuti e anche lui farà una risonanza magnetica e speriamo che domani la farà la farà anche lui domani perché ricordiamolo Lorenzo Benvenuti inizio ripresa è uscito per un colpo subito al ginocchio destro con l'ottia e gunleie che cade proprio sulla gamba esatto al collaterale ecco quindi quindi l'ha visto già l'ortopedico ieri sera e dice se è solo una contusione comunque potrebbero volerci un paio di settimane se è solo una contusione non si è espresso diversamente aspettiamo di vedere la risonanza magnetica prima di trarre delle conclusioni Renato però adesso il discorso di ACE ci porta a farti un'altra domanda per adesso poi ovviamente passiamo a Daniele però che riguarda ovviamente tutto il discorso diciamo collegato all'assenza di ACE ecco eh sì perché ACE diciamo che è anche un po' un punto di riferimento per la squadra quindi la sua mancanza ha probabilmente gettato anche in confusione i ragazzi te cosa dici perché noi li abbiamo visti un po' confusi sembrava che non parlassero quasi neanche la stessa lingua in certi momenti abbiamo avuto dei giocatori che hanno fatto una partita fantastica e ieri sera non hanno ripetuto la partita ma non gli sono neanche andati vicini alla performance di Ferrara e per cui sono quelli che sono stati fermi durante la settimana per infortunio e quindi dobbiamo pensare noi vogliamo essere positivi e pensare che comunque se un giocatore ha fatto delle buone partite fino a quel momento pensiamo che possa essere quello il motivo che non era in condizioni fisiche ottimali e cerchiamo di ritrovarli adesso nei prossimi giorni e di andare a chiusi e provare a fare un altro risultato positivo è ovvio che però diciamo così queste almeno due settimane che starà fermo benvenuti ci pongono anche degli interrogativi perché la squadra da squadra con nuove elementi in rotazione 10 considerando Flann che si è infortunato gravemente subito inizio stagione ora inizia davvero ad accusare ad avere dei problemi ovviamente nelle rotazioni speriamo per voi che Canies possa veramente recuperare per la gara di chiuso perché altrimenti diventerebbe estremamente complicato in un momento già delicato ci torniamo però con te Renato io però a proposito vedo che mi ha parlato di stranieri io Daniele te lo voglio chiedere perché tra i giocatori rivelazione invece in positivo di questa stagione c'è Austin Tilligman tu è tuo compagno di reparto quello che ti deve armare per le tue conclusioni mettere il ritmo e tutto che compagno di squadra è Tilligman? Sicuramente posso parlare per tutti e due gli americani che sono molto diciamo atipici nel senso si sono inseriti benissimo nel gruppo quindi non stanno da parte loro come molto spesso succede nel nostro campionato si sono inseriti subito nel gruppo e sono molto disponibili per quanto riguarda Austin sicuramente la società ha pescato veramente bene perché è un ragazzo che ha fatto due esperienze in Francia e in Portogallo quindi un po' d'esperienza europea ce l'ha però è un ragazzo intelligente che secondo me può anche valere una serie A sa quando caricarsi la squadra sulle sue spalle sa come gestire la squadra e intelligenza capisce le situazioni e quindi anche in A1 ci potrebbe stare tranquillamente deve imparare ad avere più personalità in certi momenti come ad esempio quel break di cui parlavamo prima dove i playmaker devono tenere le redini della squadra lì era calato un pochettino e se visto che siamo andati in difficoltà ecco per il resto non posso che parlare bene assolutamente assolutamente è una rivelazione perché poi dopo io l'ho detto altre volte qui nel corso di questa trasmissione lo guardi e ti dici ma come fa a volare nel senso un po' come il calabrone che ti chiede come faccio a volare poi invece in realtà vuole come ma sono 110 kg 1,85 kg quindi comunque ma tonico non è grasso è proprio grosso di corporatura molto fisico tant'è vero molto spesso gioca in post esatto e apre spazi per gli altri perché in due lo devono chiudere assolutamente sì Renato io voglio chiudere questa prima parte diciamo di Panorama Basket facendo una domanda veramente molto secca che si rifà alla prima domanda che ti ho fatto in questo momento e poi le analizziamo le questioni durante il corso della puntata in questo momento però da tutti diciamo così i confronti che avete avuto nell'arco di questa giornata cosa è emerso è emerso comunque che questo gruppo così com'è al momento gli si dà fiducia punto di domanda assolutamente sì in questo momento non non ci abbiamo parlato solo di come intervenire dal punto di vista del lavoro della tecnologia del capire come curare i infortunati ma non abbiamo non siamo andati assolutamente no perché ovviamente voglio subito tagliare la testa al toro nel senso capire ovviamente le cure sono la cura del lavoro la cura della fiducia la cura del punto di domanda insomma come si ne esce da queste situazioni quella non c'è ecco quella non c'è noi in questo momento adottiamo la cura della fiducia del lavoro anche se va detto che alcune scelte fatte quest'estate in questo momento non stanno corrispondendo a quello che ci si aspettava questo lo possiamo dire però questo può capitare nel corso di una stazione poi le stesse scelte magari sbocciano più tardi quindi crescono io ho visto dei giocatori che sono arrivati tre mesi fa che erano di un certo livello e oggi li ho visti migliorati sotto certi aspetti ma probabilmente non ancora abbastanza continuità le loro prestazioni su questo poi torneremo perché Francesca abbiamo qualche diciamo focus da aprire proprio sotto questo punto di vista io adesso chiedo a voi di restare incolati davanti alla televisione ci prendiamo qualche istante di pubblicità poi torniamo con i nostri ospiti benissimo rieccoci qui seconda parte di Panorama Basket e allora tanti messaggi che stanno arrivando e di questo assolutamente vi ringraziamo e noi però vogliamo partire dandovi alcune notizie molto importanti grazie alla rubrica InstaFi sì Enrico allora partiamo con la prima notizia di questa serata ed iniziamo proprio con una gran bella notizia quella della mozione presentata dai consiglieri di maggioranza Letizia Balestra Albert Bentivogli ed Elisabetta Tassinari ed approvata lunedì all'unanimità dal consiglio comunale di Forlì si tratta di un documento che impegna la giunta a individuare cinque aree verdi all'interno della città dove installare canestri per dare vita a nuovi playground e consentire così ai giovani di fare sport ma non solo perché il progetto mira anche a creare ambiti e occasioni di aggregazione in modo sano e coinvolgente e a riqualificare ovviamente anche zone di Forlì in cui spesso sono presenti situazioni di degrado sociale ed urbano a Forlì playground non mancano e bisogna anche impegnarsi a mantenere quelli che esistono almeno in condizioni dignitose però non possiamo che applaudire a questo impegno che il comune si è assunto e speriamo di potervi anche dire presto dove questi playground nasceranno assolutamente sì Francesca io invece adesso chiedo alla regia se si può mostrare un brevissimo video il silenzio regna sovrano nella voce del telecronista questa era la telecronica originale del match di serie C gold tra Castelnuovo Monti e Baskers Forlì in Popoli vinto dai Baskers grazie al canestro a due secondi dalla fine vinto 73-72 grazie al canestro a due secondi dalla fine realizzato da tre punti da Lorenzo Benedetti appunto abbiamo anche sentito la mortificazione del telecronista di casa in questo video una partita importante perché è il terzo successo di fila dei Baskers ma non solo per questo è importante perché? perché nell'occasione del match un grandissimo della palacanesta italiana che è Rodolfo Rombaldoni ha festeggiato il traguardo dei mille punti realizzati in 65 gare giocate con la maglia dei Baskers esattamente dal 2018 a oggi sono mille e otto insomma è una carriera clamorosa quella di Rodolfo Rombaldoni che ha ancora una voglia di giocare pazzesca e adesso vi mostriamo alcune foto davvero molto belle e sono foto che ritraggono delle autentiche leggende della pallacanestro femminile italiana che si sono ritrovate lo scorso fine settimana al cari sport di Cesena sono le atlete di Golden Players l'associazione nata per promuovere il basket senior due anni fa e che ha dato vita a una squadra di autentiche leonesse che non hanno mai perso la passione per questo sport nonostante la pandemia abbia portato alla cancellazione di molti eventi che erano già stati programmati la squadra ha iniziato a lavorare per preparare i campionati europei che si svolgeranno dal 26 giugno al 3 luglio a Malaga e poi anche i mondiali che si terranno nel 2023 negli Stati Uniti tra le Golden Players che si sono ritrovate a Cesena e che si raduneranno anche a fine gennaio a Milano e a fine febbraio a Roma ci sono giocatrici quali Luisa Corallo Luisa Premier Lidia Gorlin Mabel Bocchi come allenatrice e soprattutto le colonne della nuova Virtus Cesena Ivana Donadel e Mara Fullin il cui amore per il basket resta proprio lo stesso degli anni in cui furono protagoniste in campo protagoniste davvero Francesca te lo dico io ad altissimi livelli Mara Fullin è una delle più grandi giocatrici della storia della palacanestro italiana così come Donadel così come le allenatrici Mabel Bocchi Francesca ti lascio tornare al touch screen intanto però resta con noi per capire se c'è Mauro Zappi c'è? ecco perfetto ciao Mauro ciao buonasera a tutti grazie dell'invito allora Mauro ovviamente parto da te con un paio di domande poi ovviamente tu interloquirai così a ping pong a 6 i nostri ospiti da qui alla fine della trasmissione io ti voglio subito fare una domanda presentando tu una slide la slide che abbiamo proposto sull'Andrea Costa Imola ha un titolo che riguarda un film famoso di Aldo Giovanni e Giacomo chiedimi se sono felice allora io te lo chiedo quanto sei felice? beh diciamo che siamo abbastanza felici siamo abbiamo vissuto momenti molto peggiori no a parte gli scherzi insomma è un momento ovviamente un po' magico per noi siamo in una posizione di classifica molto nobile in mezzo a squadre che sono state costruite per ben altri palcoscenici per ben altri traguardi ecco però ci troviamo al nostro agio abbiamo deciso che lì ci troviamo bene quindi vogliamo provare a starci il più possibile eh assolutamente sì fra l'altro ci state dopo una vittoria fuori casa a Teramo che era reduce dal colpo corsaro in casa dei raggi solari faenza una gara che ha dimostrato tantissimo secondo me perché loro erano senza Bertocco voi però senza Manuele Trapani che è diciamo ha dimostrato di essere il faro del vostro gioco eppure la risposta di gruppo è stata straordinaria che cosa ha detto questo successo sono d'accordo con te è stata una vittoria di quelle che valgono valgono almeno due partite nel senso non tanto per i punti in classifica che sono importanti quanto per la compattezza ulteriore che ha dato a un gruppo la consapevolezza di poter reagire nei momenti anche brutti difficili per cui l'assenza è vero per loro Bertocco è un giocatore estremamente importante altrettanto vero che Emanuele è la nostra punta di diamante è il motore del nostro meccanismo e vincere comunque una partita in trasferta di quel genere andando anche sotto prendendo un parziale a fine terzo quarto un 10 a 0 che poteva appassirci tutto sommato giocatori fuori ruolo corcelli playmaker abbiamo giocato diversi minuti senza un playmaker di ruolo ecco con Cusenza a portare la palla con tutti i giochi che prevedevano l'ingresso con lui nelle chiamate è assolutamente un successo determinante per la nostra consapevolezza Mauro ti chiedo però subito come sta Emanuele Trappini sapevamo appunto dei problemi muscolari che l'hanno condizionato fortemente nel derby con Rimini l'hanno costretto al forfè di Teramo però adesso arriva il derby in casa con i raggi solari risfaenza potrà essere della gara ma direi proprio di sì Emanuele ha cominciato un lavoro ieri con il preparatore fisico a parte graduale concordato gli esami clinici hanno escluso qualsiasi tipo di preoccupazione ulteriore direi che da domani è con noi a regime se non tutto l'allenamento un buon 80% quindi assolutamente per domenica scalpitava già domenica in panchina a fine partita mi ha detto ho sudato come se avessi giocato e quindi assolutamente sì insomma rientriamo al completo Perfetto io voglio farti una domanda poi parleremo ovviamente di tante altre cose della squadra però mi permetti anche perché ci conosciamo di farti una domanda personale che è questa il quanto sei felice della mia premessa un po' lo rivolgo anche a te sappiamo tutti da dove è iniziata questa stagione di Imola sappiamo tutti quali sono state le problematiche non ti chiedo di rivangarle ti chiedo però se alla fine dopo i trascorsi anche questo avvio di stagione questa scelta poi alla fine di rimanere in bianco rosso è una scelta ripagata per ora da tante soddisfazioni assolutamente sì io non ho mai nascosto che avevo un contratto ancora per un anno con Imola e non c'era la volontà di scappare da Imola Imola è casa mia Imola è la società dove sono cresciuto c'era solamente un po' di sana ambizione credo che deve animare chiunque faccia questo mestiere che sia un allenatore che sia un giocatore ma non ho mai pensato di dire nonostante tutto nonostante quello che hai detto tu del passato degli ultimi 4-5 mesi della scorsa stagione che sono stati veramente tristi e spiacevoli ecco di voglia di rivincita ecco allora io ho provato a cominciare questa stagione proprio con questo sentimento qui e perché no di trasmetterlo nel mio piccolo a chi è venuto per la prima volta e di dire dimostriamo nonostante i problemi che ci sono stati e chissà speriamo di no magari ci saranno non lo so sperando di no però facciamo tutti i giorni il nostro lavoro ognuno per sé al meglio e proviamo in modo di fare in modo che la stagione vada avanti nel miglior modo possibile per noi stessi perché poi dopo siamo noi che dobbiamo andare avanti infatti poi vediamo come può andare avanti ma soprattutto si fondano questi risultati però parlavamo di scelte Francesca parlavamo di scelte allora io vado a parlare con Daniele perché quest'anno quest'estate quando la società di Ravenna ha deciso di costruire la squadra per questo campionato ha chiaramente ridimensionato un po' i budget e un po' le ambizioni eppure nonostante questo tu hai risposto presente allora nonostante tutto che cosa ti ha spinto a restare? Sicuramente a Ravenna sto bene sia come società che genuina sia perché è a modello familiare avendo io una famiglia giriamo per Ravenna si respira buon'aria la prima mia esperienza il mio primo anno è stato molto positivo non solo sul capo ma anche con la gente quindi sicuramente questa è stata un po' la chiave del per cui sono rimasto ecco con grande piacere ho sposato nonostante avessi anche molte offerte migliori però per me conta un po' in generale tutto non vado solo a vedere sì esatto direi che alla luce di questo avvio di campionato è stata anche la scelta giusta mi pare che dici? si sta rivelando la scelta giusta abbiamo iniziato il campionato da nove partite però sicuramente è un po' diverso rispetto all'anno scorso l'anno scorso c'era il covid iniziamo male eravamo terzi ultimi lo ricordo ancora però ecco un po' simile agli infortuni un po' di Forlì però c'era anche il covid avevamo sette persone col covid solo quattro giocatori erano sani giocavo anche con molti infortunati e vincemmo tantissimo nel girone di ritorno perché abbiamo trovato ritmo il gruppo era eccezionale anche l'anno scorso quindi per due anni sicuramente la società si era mossa bene c'era una difficoltà in più quella del covid che stiamo gestendo abbastanza bene un po' tutti qua in generale però ecco sicuramente siamo oltre le aspettative e delle aspettative infatti sono curiosa di sapere tu che aspettative avevi per Ravenna quest'anno e soprattutto ti stai ricredendo? ma chi mi conosce come giocatore sa che sono ambizioso e che vuole sempre ecco dare il massimo tutto quello che ha ma anche esigere ai compagni di squadra anche che elevino il loro gioco ecco io voglio dare grande merito al lavoro che ha fatto l'anno scorso Cancellieri perché sicuramente come avete ben visto noi siamo ripartiti da un gruppo di italiani di quattro il sottoscritto più De Negri, Oxiglio e Simioni De Negri, Oxiglio e Simioni stanno facendo stanno disputando veramente un grandissimo campionato tutti e tre e molto mi aspetto soprattutto dal punto di vista mentale sono cambiati totalmente dal giorno alla notte dall'anno scorso a quest'anno e proprio si vede nelle partite come sono più pronti mentalmente e come ecco hanno migliorato anche quest'estate hanno lavorato tantissimo lavorano tanto anche in campo anche negli annamenti e quindi il merito per cui Ravenna in questo momento è la rivelazione del campionato sta nei giocatori e poi in quali altri fattori sicuramente la squadra è costituita da due giocatori di esperienza come me Gazzotti Gazzotti ha vinto la 2 io l'avevo vinta pure siamo giocatori anche che abbiamo esperienze in più rispetto agli altri e cerchiamo sempre ad aiutare i compagni più giovani come Berdini e Arnaldo che sono non mi anticipare nulla su questo perché ti voglio fare qualche domandina più tardi sui ragazzi giovani sì sono sicuramente anche loro sono importanti non in termini di cifre per ora però sono sicuramente importanti anche voglio vedere voglio sottolineare la prova di Berdini che con quel canestro da tre comunque ha dimostrato di giocare anche i minuti importanti alla fine quindi comunque sono giocatori pronti non a caso tutte e due sono sotto contratto con due squadre di serie A è una squadra costruita con logica sono contento e il compito mio è quello da capitano è quello di Gazzotti che mi dà una mano è quello di sì è quello di di far migliorare i ragazzi giovani ma anche di far crescere ed essere più pronti eventualmente tutti gli altri gli americani stanno dando una grandissima mano ma sono già pronti però il passo non lo fanno gli americani ma lo facciamo noi come squadra ma ascolta prima hai citato cancellieri quest'anno però avete come head coach lo tesoriero oltretutto tu lo conoscevi già è stato tuo vice allenatore un paio di anni fa alla Fortitudo Bologna e come ti stai trovando con lui e soprattutto come lo hai ritrovato dopo questi due anni se lo vedi cambiato migliorato raccontaci un po' innanzitutto l'altro motivo per cui ho detto che sono rimasto a Ravenna era anche che conoscevo l'allenatore sapevo che era preparato viene da da due anni di Serie A con me in Fortitudo e quello anche a Reggio Emilia e ha la stessa preparazione di Antimo Martino è un allenatore molto preparato gli piace stare molto in palestra fa stare anche lo staff in palestra parecchio aveva bisogno di un'occasione quando gli si è presentato l'occasione di Ravenna un ambiente che già conosceva perché l'aveva 4 anni c'era già stato esattamente 4 anni sicuramente è un'esperienza che lo può lanciare ecco nel panorama del basket sono contento per lui perché è una bravissima persona anche fuori dal campo non c'è esperienza però anche lì sia io che Gazzotti siamo al lavoro di squadra è un lavoro di squadra è un lavoro di squadra se chi ha più esperienza la mette a disposizione degli altri assolutamente Renato io passo da te perché ovviamente adesso Daniele ha usato il termine ambiente allora l'ambiente in questo momento a Forlì sappiamo è in subbuglio no? anche abbastanza rovente come ci siamo già detti quello dentro la squadra no no quello esterno parliamo di tifosi in questo caso però ecco però ha fatto bene a precisarmelo nel senso che al di là dei fischi al di là di qualche coro un'immagine che ha colpito tutti è stata quella del presidente Nico Santi che a un certo punto si è alzato dalla sua poltrona in parterre e almeno è stato dentro il tunnel degli spogliatoi non lo so però comunque è salzato dal di lì ecco da qualsiasi angolatura si guardi questa scena è una scena forte onestamente parlando anche perché la passione che ha Nico Santi credo sia veramente motrice di tutta la società sua dei soci che lo sostengono e tutto tu ci hai parlato con Nico Santi oggi che Nico Santi ha avvertito ovviamente sì ovviamente sì non è contento e ha ragione i soci non sono contenti hanno ragione non ci sono scusanti nessuno si vuole nascondere o negare le proprie responsabilità il punto è che mentre chi si arrabbia ed è insoddisfatto ha finito noi invece siamo arrabbiati insoddisfatti dobbiamo trovare anche un'alternativa una soluzione per uscire da da questo momento che poi ripeto si parla della partita di ieri sera non si parla che sono 4-5 partite che la squadra non va bene poi ripeto nessuno è contento il tifoso fa il tifoso quindi è deluso è arrabbiato critico non va bene niente bisogna cambiare gli americani bisogna cambiare gli italiani bisogna cambiare l'allenatore bisogna cambiare il general manager ed è normale è così ma non a Forlì e mi dispiace ma non do l'esclusiva a Forlì per tutta questa situazione qui è una situazione che un po' avviene in tutte le piazze insoddisfatte o deluse ti dico però una cosa Renato parlano i numeri in questo caso parli di? parlano i numeri cioè ci sono alcune situazioni diciamo così del gioco forlivese non ho preparato una slide a riguardo però ti li elenco così che dimostrano delle difficoltà no noi abbiamo chiesto anche con un sondaggio quali sono potrebbero essere i limiti ad esempio Forlì ha un altissimo numero di palle perse e anche nella partita con Latina 19 sono 15,7 di media nei tre anni dell'agnello è il dato più eclatante ne ha sempre perse molte meno e il rapporto assist palle perse è molto basso 0,77 è il quarto ultimo del campionato questo dimostra delle difficoltà nel gioco difficoltà secondo te debitabili a cosa? e come superabili quindi in generale capito? al di là diciamo della singola partita è difficile non è che posso fare un'analisi qui adesso ti chiedo di fare l'allenatore scusami ma le palle perse sono figlie di che molte sono banali Renato hai capito? bravo cioè voglio dire adesso ci sono delle palle perse che sono ingiustificabili e delle palle perse che rientrano nel tentativo di fare un buon passaggio nelle ultime quattro giornate le palle perse di fuori sono state di 17,2 di media sono toppe una squadra che deve stare nelle prime quattro vuole stare nelle prime quattro non può perdere più di 12-13 palle a partita quando sono tante e ci rendiamo conto di questa cosa qui ma siccome lo hai rilevato tu spero che tu non pensi che gli allenatori nostri non se ne siano accorti e non stiano provando a trovare la soluzione a questo problema e non è una soluzione che risolvi in una settimana ripeto adesso io non è che voglio giustificare più di tanto però 5 anni fa 6 anni fa io ero a Torino e non siamo mai arrivati stati in classifica più avanti del quinto posto siamo andati ai playoff e abbiamo fatto la promozione ecco ora non voglio mica dire che quest'anno faremo la stessa cosa però è arrivato un momento siamo passati attraverso una bufera dove i 56 soci sono ridotti a un socio unico abbiamo allontanato il giocatore che era di riferimento che era amoroso e abbiamo sostituito con Davide Bruttini che è un giocatore completamente diverso e quindi abbiamo fatto delle modifiche abbiamo resistito a tutte le critiche tutto quello che è successo e quando siamo arrivati ai playoff abbiamo cominciato a giocare avevamo giocatori esperti giocatori capaci e abbiamo vinto il campionato Renato io però casomai avendo visto i messaggi adesso Francesca ti chiedo di leggerne un paio l'hai accennato anche tu probabilmente anzi non probabilmente sicuramente alcuni giocatori stanno rendendo meno delle previsioni anche qui ti do dei numeri io non lo dico davanti ai nostri telespettatori non le sto dicendo per gettare la croce su un giocatore piuttosto che su un altro però è proprio perché i numeri danno qualche indicazione avete fatto un po' delle scommesse cioè giocatori di livello che pensavate potessero crescere su un altro livello un esempio è Carroll un altro esempio ad esempio è Ray Pullazi prima di Ray Pullazi che sta avendo le statistiche non tanto per minuti giocati e punti ma quanto per percentuali di tiro e rimbalzi peggiore di tutta la sua carriera cioè che cos'è che non sta funzionando nel percorso di questi ragazzi per ora per ora io cosa possa stia succedendo esattamente non lo so posso dirti che vedo che Sandro sta provando a mischiare le carte sta provando a trovare delle posizioni diverse in campo stiamo provando a farlo partire dalla panchina piuttosto che dal quintetto sia lui che con Carroll stiamo provando a trovare la soluzione migliore che non è detto che si trovi comunque da qui alla fine dell'anno speriamo di trovare la migliore devo dire che anche quelli che l'anno scorso per noi erano certezze quest'anno non sono le stesse certezze che avevamo l'anno scorso per cui è vero che questi due giocatori che tu hai citato possono essere considerati delle scommesse ma non è detto che le abbiamo perse ancora io dico che siamo ancora all'inizio e per cui sono fiducioso che le cose si possono sistemare poi ti ripeto ogni anno noi abbiamo perso delle partite che non dovevamo perdere e alla fine prima che tu Renato scusa se lo dico e questo te ne va dato atto vieni sempre in momenti particolari è arrivato dopo la partita persa in casa con la Stella Azzurra Roma avevi detto quella la mettiamo nell'elenco delle gare che non dovevamo perdere e l'abbiamo persa adesso c'è la Tina quindi insomma bisogna fare non posso escludere che ne possano arrivare delle altre certo però io metto adesso anche in calendario che possiamo andarne a vincere qualcuno dove magari non ci si aspetta ma l'abbiamo chiesto anche ai nostri telespettatori tramite il sondaggio perché in questa Forlì ci sono tanti aspetti che non funzionano molto bene e in particolar modo ci siamo anche focalizzati sulla difficoltà che sta avendo quest'anno la squadra rispetto al passato a giocare dentro l'area con i propri lunghi in particolar modo abbiamo anche visto un Bruttini particolarmente in difficoltà rispetto agli anni scorsi non è lo stesso Bruttini di anno scorso secondo te perché a cosa è dovuto questo? per rispondere chi non avrebbe riconfermato il Bruttini dell'anno scorso io l'avrei riconfermato vogliamo mettere in discussione Bruttini adesso? no 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 però diciamo la difficoltà nel gioco se Davide in questo momento sta trovando un po' di difficoltà è vero però lo vedo in crescita anche lui benvenuti chi non l'avrebbe preso dopo quella stagione che fece due anni fa qui da noi eravamo tutti entusiasti di riportarlo a Forlì va detto che Lorenzo non ha fatto un buon inizio stagione anche se ultimamente si è un po' ripreso è un po' più presente ma non è ancora quel giocatore con la differenza che due anni fa lo consideravamo un giovane che doveva emergere adesso invece vorremmo che fosse protagonista ma Lorenzo non è un protagonista è comunque un buon giocatore un giocatore che aiuta la squadra ma non sarà mai un giocatore protagonista è sempre un giocatore che fa bene il suo ruolo va detto che anche lui non ha iniziato bene quest'anno però ultimamente si stava riprendendo mi dispiace di questo infortunio perché ultimamente si stava allenando meglio era più presente in campo si sentiva un po' di più la sua presenza in campo e poi la pericolosità dentro l'area forse le palle perse vengono anche per l'eccessiva ricerca di andare a cercare l'uomo dentro l'area forse ecco per dare anche una risposta a questa cosa ad analizzarla proprio in questi temi oggi noi qualsiasi cosa voi tirate fuori è corretto è come sparare sulla croce rossa oggi per cui noi ma proprio l'intento di analizzare Renato per carità di Dio sono tutte analisi corrette Enrico non vi sto dicendo che è sbagliato sono tutte analisi corrette e che posso solamente che condividere ripeto voi fate le analisi noi facciamo le analisi però noi dobbiamo trovare le risposte noi dobbiamo trovare le soluzioni ecco ah infatti e ci stiamo provando e speriamo di trovarle e sono consapevoli che qualche cosa di diverso siamo in grado di proporre perfetto Renato io torno un attimo da te Mauro perché ti voglio chiedere questo in virtù anche di certe cose che il sottoscritto stesso ha pensato e ha detto all'inizio della stagione le scelte fatte sul mercato dall'Andrea Costa Imola riguardavano giocatori ovviamente che avevano bisogno o di rilanciarsi o di trovare nuovi stimoli o di avere finalmente una vetrina penso a chi come 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 Vigori veniva da problemi fisici molto 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 importanti a chi come Emanuele Trappi ne aveva bisogno di responsabilità vabbè adesso senza entrare nel caso dei singoli la consapevolezza di quello che sarebbe stato il vostro diciamo ruolo in questa stagione ha fatto la forza di Imola la consapevolezza fin dall'inizio sicuramente sicuramente sì perché è chiaro che il nostro è stato un mercato per certi versi obbligato per i discorsi che dicevi tu prima riguardo alla stagione passata e quindi si doveva andare a pescare gioco forza con un budget a disposizione ridotto nell'ordine in un ordine abbastanza importante rispetto alla stagione scorsa e quindi la ricerca è andata gioco forza sui giocatori come dicevi tu che per un motivo o per l'altro necessitavano di rilancio perché venivano dai fortuni di rilancio perché non avevano giocato la passata stagione tanti minuti vedi Wishare Calabrese o Emanuele che aveva un ruolo più da comprimario e invece ne cercava uno da protagonista e da guida di una squadra per la prima volta in carriera quindi sicuramente tutte queste singole situazioni messe insieme ognuno di loro dal primo giorno le ha prese come forza come poi dicevo prima ed è un po' il filo conduttore con quello che ho provato a fare io assolutamente mi dissi una cosa proprio sui giovani che hai appena citato Calabrese Walshire cioè ragazzi che insomma davvero stanno dandovi tante energie sono perfetti per il vostro meccanismo di gioco intensità difensiva dinamismo corsa sì allora è chiaro che la nostra fotografia più bella oggi sono proprio loro indubbiamente perché sono cresciuti tanto come diceva Daniele giustamente prima i giovani non sai mai il tempo che ci vuole ma per esempio Ravenna è stata la dimostrazione palese che con pazienza facendo un mercato giusto con questi tre giocatori tre anni fa oggi ne raccoglie dei dividendi molto molto grossi la classifica nella prova concreta non è bello fare nomi l'hai detto tu prima però prendo faccio una parentesi Nicola Calabrese secondo me è la fotografia dell'Andrea Costa Imola di oggi nel senso che era un giocatore che non aveva giocato le due stagioni passate tanti minuti a faenza è un giocatore che è arrivato con una collocazione meno precisa di tutti quanti gli esterni della nostra squadra ad agosto è un giocatore che ha faticato abbastanza nel primo mese di prestagione ma con tanto lavoro tanta abnegazione non piangersi addosso sugli errori ma cercare sempre di reagire in maniera determinante oggi è il caposaldo della nostra difesa è un giocatore dal quale noi non possiamo prescindere tatticamente sia in attacco che in difesa perché ci gioca due se non tre ruoli mi sembra mi sembra veramente Nicola la fotografia di come Imola è crescita dal 23 agosto ad oggi assolutamente allora Francesca adesso andiamo a beneficio di Mauro ma a beneficio anche di Daniele e in parte anche di Renato a vedere quello che di bello questo fine settimana ha mostrato sul campo con la nostra top 5 balla per Bonci ma capisce tutto William Wilshire che va a schiacciare in contropiede e ancora Carroll due recuperi consecutivi va a schiacciare Jeffrey Carroll Bertini per la De Negri che batte su Ricciola e Simeone va a schiacciare Crespi un altro che il tiro da tre ce l'ha nel sangue e sbaglia poi per Aromando attenzione i fotografi Sip Sì Gabbiani può andare in contropiede per la schiacciata e allora qui c'è materiale per i fotografi Palla fuori per Carnovali ancora Carnovali buona difesa da parte di Triassi ancora Carnovali in possesso della sfera si alza del 6.75 con un tiro impossibile e c'è la tripla proprio allo scadere Ed è una vera e propria buffata di schiacciate la nostra top 5 di questa settimana e noi ve l'abbiamo presentata un po' in tutte le salse proprio a partire da quell'incontropiede su Palla Recuperata di William Wilshire di Imola e Jeffrey Carroll della Palla Canestro Forlì salendo abbiamo trovato poi lo splendido gioco a due tra Davide De Negri e Alessandro Simioni di Ravenna e Simona Romando dei Raggi Solaris Faenza che va a chiudere a due mani sul solito splendido lancio illuminante di Sebastian Vico e poi siamo tornati a decollare assieme a Luca Fabiani di Rimini che domenica ha mostrato a tutti le sue straordinarie doti atletiche con un volo degno di palcoscenici ancora più prestigiosi ma al primo posto questa settimana non potevamo non mettere Limolese Tommaso Carnovali non con una schiacciata però ma con una sua grandissima specialità una tripla folle e impossibile sulla sirena di fine primo tempo del match con Teramo Esattamente l'abbiamo appena rivista e allora adesso noi ci perdiamo un attimo di pausa pubblicità e poi ritorniamo con la terza parte le nostre domande e i vostri messaggi eccoci di nuovo terza parte di Panorama Basket abbiamo ancora un paio di notizie fresche fresche da darvi ma soprattutto molto belle eh sì infatti perché è bellissima anche l'iniziativa di cui vi vogliamo parlare è un'iniziativa dei nostri amici di Basketball Stars Camp che da sempre si distinguono per l'attenzione al sociale questa volta il loro aiuto arriverà attraverso Three Points for Life a quattro associazioni Wheelchair Basket for Lee Special Krebs Rimini Seven for You Matteo Bertolazzi e Sports Around the World vi spiego di che cosa si tratta sono state scelte in collaborazione con le società cinque partite e per ogni canestro da tre punti realizzati in ognuna di queste gare verranno donati 10 euro alle quattro realtà che vi ho appena citato le partite già fissate sono Cremona Virtus Bologna del 12 dicembre Forlì Nardò del 19 e Rayer Venezia e Napoli del 26 dicembre ma hanno aderito anche Varese e Trento sempre in Serie A assolutamente complimenti anche alla Palacranes 2.015 di Renato Pasquali per aver aderito all'iniziativa del di Basketball Stars Camp per quanto riguarda appunto questa solidarietà che i nostri partner fanno sempre davvero da questo punto di vista sono incommiabili io invece vi voglio dare una notizia era nell'aria ovviamente ed è diventata ufficiale nei giorni scorsi parliamo di RBR Rimini e di Moreno Maresi che è diventato assessore allo sport del comune di Rimini e ha lasciato la vicepresidenza di rinascita basket lo ha fatto appunto la scorsa settimana e domenica al Flaminio la società la squadra lo hanno omaggiato anche con il bel pallone firmato che vedete nelle fotografie una scelta obbligata quella di Maresi che però manterrà il suo posto in parterra vicino alla moglie Emanuela e continuerà a seguire passo per passo il cammino della squadra perché come dice lo stesso club bianco-rosso e riporto il virgolettato del comunicato stampa siamo orgogliosi di avere dato in prestito a tutta la comunità sportiva di Rimini una grande persona e noi ovviamente condividiamo da questo punto di vista Francesca passo la palla a te passi la palla a me io torno allora da Daniele perché volevo chiedergli abbiamo parlato prima del tuo ruolo di capitano in questo momento ruolo da mentore diciamo della squadra però voglio sapere anche dal punto di vista invece più tecnico il tuo ruolo quest'anno nella Ravenna sicuramente sicuramente è un ruolo sempre importante come l'anno scorso nel senso anche se sono capitano e tengo molto alla squadra più che le mie statistiche personali però sono sicuro che ancora posso dare tanto quindi quando quest'estate c'è la costruzione della squadra mi si era prospettato ovviamente un ruolo importante ancora la società credeva ancora a me fortemente voleva costruire intorno a me gli americani la squadra con la crescita del gruppo insomma di cui ho parlato prima De Negri Simeoni e Oxilia e questo progetto sicuramente mi ha fatto piacere e devo dire che ho accettato subito sì ma ma che cosa ti chiede quest'anno coach lo tesoriere c'è qualcosa sicuramente io ho fatto 14 anni in serie A più 3 anni di professionismo quando la 2 era professionista sicuramente quello che devo portare tanto non è tanto le mie statistiche ma quanto far crescere giocatori che hanno potenzialità e portare la mia esperienza come dicevo prima questa è la cosa insomma che voglio fare di più in questo momento della mia carriera ecco poi ovvio sono consapevole dei miei mezzi di come sto mi sento bene ho la passione dentro mi piace ricordare ho visto la partita Cremona Pesaro di serie A Delfino a proposito della domanda che gli hanno fatto dell'età lui ha detto che l'età è un numero e quello che conta quello che conta veramente è quello che c'è te dentro e io lo sposo perfettamente quello che ha detto lui perché conta la passione e conta quello che c'è veramente dentro e come ti senti te che gli altri non lo possono sapere quindi questa motivazione qua ti spingono ad andare avanti ma poi sulla cocktail di longevità agonistica vogliamo anche sapere qualcosa però anche da casa per Daniele ma si da casa tanti tanti complimenti al mitico Cincia ti chiedono come ti trovi a Ravenna ma questo ce l'hai già detto ma soprattutto chiedono se pensi magari di poter chiudere la tua carriera proprio qui a Ravenna potrebbe essere un'idea allettante sicuramente mi sento di giocare ancora un paio d'anni ce li ho tutti mi sento bene sto bene tengo molto al mio corpo al mio fisico sono sempre stato ecco un professionista serio quindi adesso un po' non ci stiamo ancora pensando diciamo 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 di no perché mi piace ancora giocare scendere in campo trascinare i miei compagni insegnare incitare le folle mi piace mi piace quindi sinceramente non ci penso però nell'eventualità se ci fosse sicuramente mi piacerebbe concludere il tuo percorso lo potrei fare con Ravenna e poi e poi cosa ti piacerebbe fare vorresti restare nell'ambito sportivo e poi io sei già pensato per scheramanzia non dico niente però ho sia opzioni dentro il basket che fuori dal basket che vuoi bene allora le scopriremo quando sarà il momento esatto ha già varie strade devi solo scegliere sì è ovvio che un po' di domande te le fai delle alternative ce le hai però il pensarci è un'altra cosa in questo momento Renato io voglio farti una domanda che è questa poi passiamo anche quelle da casa perché ovviamente le abbiamo lasciate ancora un po' diciamo così nel congelatore ora si gioca chiusi e il tempo non è tanto perché si è giocato martedì oggi sarà mercoledì si arriva con delle incognite ovviamente benvenuti che non ci sarà Kenny Ace che spera Forlì ovviamente di poterlo avere in campo però le prossime sono tre partite su quattro in trasferta da qui alla fine del girone d'andata diciamo meglio da qui alla pausa natalista che cosa ti aspetti dalla squadra la sfera magica non ce l'ho devo dire che fare promesse dopo quello che è successo dall'inizio del campionato adesso viene anche abbastanza difficile l'unica cosa certa è che sono conto sulla serietà dell'allenatore e dei giocatori che sono convinto che non si tireranno indietro che daranno il massimo e se è vero che Verona ha avuto tre infortuni importanti e stanno continuando a vincere e pensando a quelli che ci sono non a quelli che non ci sono e noi dovremo fare la stessa cosa pensare a quelli che ci sono e non quelli che mancheranno una riga la tirerete comunque al termine del girone d'andata come tutte le società come tutte le squadre in questo momento però arrivare tra i primi quattro è comunque un obiettivo di questa società per giocarsi le finali di Coppa Italia il nostro obiettivo è quello di rimanere sempre a quattro di competere sempre al vertice la squadra ha il potenziale per farlo e perché no indubbiamente oggi c'è un po' di scetticismo c'è sicuramente qualche negatività che gira attorno ma è giustificata e comprensibile però io sono sicuro che i nostri giocatori sono gente seria abbiamo uno spogliatoio sano e per cui confido su tutte queste cose qui che alla fine avere pazienza stare tranquilli e continuare a lavorare paga quasi sempre Francesca ti cedo la parola per darla poi anche ai nostri telespettatori sì Enrico allora partiamo Pasquali è sempre positivo e ammettere gli errori è segno di maturità però bisognerebbe anche saper intervenire quando serve scrivono perché non si possono sempre comprare giocatori per poi cambiargli ruolo rischiando di snaturarli perché poi si perdono questo ce lo scrive Alex la domanda è prendere dei giocatori per poi cambiargli ruolo esatto si snaturano si snaturano e quindi a questo forse si deve anche il fatto che si perdano in campo sei convinto di questo oppure no? io non ho mai parlato di cambiare i ruoli ho cambiato di cambiare la posizione in campo non di cambiare i ruoli onestamente potrei avere la memoria corta ma non mi risulta che nel passato noi abbiamo preso dei giocatori per poi cambiare il ruolo l'unico giocatore versatile che noi abbiamo avuto che l'abbiamo preso che aveva fatto sempre il 3-4 l'abbiamo fatto giocare 1-2-3-4-5 è stato Oxilia mi sembra di ricordare che tutti gli altri giocatori dove li abbiamo pensati li abbiamo mantenuti ripeto non è il ruolo che gli cambiamo ma probabilmente le richieste che noi facciamo al giocatore che potrebbero cambiare ok ancora ma Palumbo come play di ruolo non è stata forse una scommessa troppo azzardata era così pronto oppure essendoci giacchetti si è deciso che non serviva un play maturo perché mi sembra che manchi una guida lo scrive Vale di quale Palumbo parliamo di quello di ieri sera o di quello di Ferrara? parliamo di un Palumbo di alti e bassi continui perché ha 21 anni e quindi può succedere è chiaro che noi abbiamo qui Andrea che ci conferma che vuole giocare ancora due anni Daniele ancora? Daniele Daniele sì Daniele ma è stato un lapsus lo ha anche allenato lo ha anche allenato sì Daniele che dice che vuole giocare ancora almeno un paio d'anni ecco è della stessa età di Jacopo potrebbe essere la sua ultima stagione a Forlì per motivi familiari ma non credo che abbia intenzione di smettere per cui nella testa del giocatore la fiamma è sempre accesa e il desiderio di continuare a performare è sempre buono è chiaro che davanti a uno che ha 37 anni tu gli devi trovare un giocatore che abbia atletismo e Palumbo ce l'ha stazza Palumbo ha preso anche 15 rimbalzi una partita voglio dire e abbia un po' tutte le caratteristiche e l'anno scorso è stato il playmaker titolare giocando 22 minuti a partita alla squadra che ha fatto poi la semifinale per andare in Serie A quindi parlare ancora di scommessa dopo questa è quella sua sesta stagione che fa in Serie A mi sembra un po' azzardato ok un'altra Francesca una domanda molto interessante Pasquali penso che lei abbia costruito nel corso di questi anni a Forlì squadre sempre competitive e con una certa identità ogni anno abbiamo sempre fatto meglio il suo impegno è ben evidente e personalmente molto apprezzato le chiedo però non pensa di aver talvolta effettuato scelte non propriamente azzeccate sul versante americano penso per esempio a Kenny Lawson Watson ed altri inoltre le chiedo anche su che basi tipicamente sceglie gli americani indicazioni del coach scouting che fa lei individualmente segnalazioni da esterni grazie e sempre forza Forlì ringrazio per questa domanda qui che la trovo pertinente e intelligente prima di tutto io mi baso sugli obiettivi che mi dà la società in base agli obiettivi cerchiamo di costruire la squadra la squadra viene costruita assieme all'allenatore che ha l'ultima parola ma che è quasi sempre condivisa con società e manager per cui non siamo mai arrivati a una scelta che non sia stata condivisa da tutti detto questo se oggi pensiamo di mettere in discussione Kenny Lawson che aveva vinto il campionato a Bologna e che era un giocatore che sul mercato avrebbero preso tutti quelli che si potevano permettere magari un certo tipo di budget poi Kenny Lawson ha deluso sì ha deluso ma onestamente quando uno ti propone Kenny Lawson e la società dice prendiamo Kenny Lawson puoi dire no non lo voglio prendere onestamente ma onestamente perché anch'io condividevo la scelta perché pensavo che fosse un giocatore che in a due forse da prime quattro posti e confermo che non è non ha risentato le aspettative forse perché noi lo pensavamo un giocatore diverso e attorno a lui non aveva la squadra adatta perché non è un giocatore protagonista è un giocatore un team player non è un Renato ti fermo perché questo mi porta veramente all'attualità vero Francesca eh sì perché ne parlavamo prima in queste due giornate di assenza di Ace Carroll è stato più protagonista e ha avuto più responsabilità voglio chiederti secondo te queste responsabilità lui come le ha assunte è stato che giocatore è stato in queste due partite beh indubbiamente mancando i 12-15 tiri di Ace ovviamente qualcun altro li doveva prendere a Ferrara ne ha presi un po' di più anche Palumbo tirando molto bene oltretutto e lui fece anche lo stesso anche lo stesso Carroll dico è stato dato più libertà perché indubbiamente i realizzatori sono quelli abbiamo dei giocatori che sappiamo che hanno punti nelle mani e altri che invece a volte sì a volte meno ecco in queste due partite qui Kenny ha saputo si è reso conto che mancavano dei tiri la squadra gli riconosce un ruolo di uno che è realizzatore e perché non sputarlo poi a Ferrara ha avuto percentuali migliori ieri sera non ha avuto grandi percentuali però indubbiamente ha fatto credo 16 tiri anche ieri sera per un realizzatore 16 tiri non è un'esagerazione la scelta degli americani la scelta degli americani io faccio scouting tutto l'anno seguo tutti i campionati europei ho il mio database dove mi annoto quelli che potrebbero essere appetibili senza sapere qual è il ruolo che andrò a prender l'anno dopo la scelta degli americani e degli italiani si basa anche sul che tipo di allenatore hai e che cosa che tipo di giocatore può andare bene per la filosofia di quell'allenatore altri che potrebbero essere più bravi ma non si sposano con la filosofia dell'allenatore per cui la scelta va fatta sia in base al ruolo che si sceglie di prendere ma anche in base a quella che è la filosofia di gioco dell'allenatore detto questo potrei avere anche sbagliato qualche americana ma io direi più potremmo perché tutte le scelte sono state condivise anche quelle che hanno funzionato perché non mi prendo i meriti di questa escalation che ha avuto la società in questi 4-5 anni e mi prendo parte dei demeriti per quello che non ha funzionato Renato ti chiedo una risposta però abbastanza secca però sempre su Carroll a questo punto un po' come dicevamo prima Carroll è stato preso con l'idea di costruirci di portare avanti un progetto con lui questo progetto va avanti va avanti ok quindi sta soddisfacendo diciamo le aspettative quelle che avevate all'inizio no ok no non l'abbiamo neanche mai detto ok però l'unica cosa che credo sia giusto sottolineare è che lui è un giocatore diverso rispetto a tre mesi fa sia in difesa che in attacco nelle scelte dei tiri e soprattutto nell'essere un po' più affidabile anche in difesa è abbastanza no ma vediamo che ci sono dei passi avanti e confidiamo quel lavoro di provare faccio adesso un esempio di un giocatore che abbiamo preso l'anno scorso che è Riccardo Bolpin che all'inizio non eravamo soddisfatti il giocatore non era soddisfatto il giocatore era deluso ma è arrivato al punto in cui o si spaccava o migliorava e alla fine lui ha tenuto duro ha tenuto duro e alla fine ha fatto un buon finale stagione e oggi quest'anno abbiamo un giocatore diverso anche se te la dico io ma qui non presuppone una risposta è una riflessione che per onestà mia nei confronti anche di chi sta a casa perché io devo dire pubblicamente ciò che penso anche in privata altrimenti non mi guarderei in faccia la mattina un giocatore come Carroll per le sue caratteristiche prettamente perimetrali io lo vedo poco adatto al gioco di una squadra in cui servirebbe come il pane un giocatore di uno contro uno noi avevamo pensato la squadra dove il giocatore di uno contro uno già era Palumbo ed era già Ace o meglio cerchiamo una guardia che potesse procurarsi un tiro senza dover fare tanti blocchi Ace è uno che si può procurare un tiro ma avevamo bisogno di qualcuno che stesse tra la Liga di tre punti che allargasse il campo quindi un tre che potesse essere diciamo pericoloso questa è stata la filosofia che fosse un buon atleta perché dovevamo sostituire Rush che era un buon atleta e che avesse una stazza importante questo è stato il motivo per cui siamo andati su di lui adesso io torno da Mauro però prima Francesca andiamo a salutare i nostri partner yes parliamo di Basketball Stars Camp Vivi lo sport con passione e rinnovata fiducia la grande pallacanestro dell'Eurolega e dell'NBA quest'estate non sarà più un sogno ma una straordinaria esperienza della quale potrai essere il protagonista Basketball Stars Camp torna a darti una grande opportunità tre settimane a luglio per scoprire i templi del basket spagnolo e statunitense ed allenarti giocare e divertirti al loro interno migliorando così la tua tecnica e la padronanza delle lingue se hai tra gli 11 e 18 anni Richard Lelli Simone Pieric e uno staff tecnico di altissimo livello ti aspettano con entusiasmo professionalità e impegno per accompagnarti in una vacanza indimenticabile la destinazione la scegli tu puoi affinare le tue qualità al camp d'alta specializzazione del Basconia soggiornando a Vittoria nella foresteria della società campione di Spagna e allenandoti sei ore al giorno per una settimana con i migliori coach in lingua spagnola e inglese Basketball Stars Camp ti porta anche negli Stati Uniti due settimane per scoprire i luoghi sacri della pallacanestro e i grandi college di New York e Philadelphia per giocare sui playground più famosi al mondo dove sono cresciute le stelle della NBA e per allenarti al Nike Camp o al Sixers Camp dei 76ers imparando tutti i segreti del mondo professionistico spalanca gli occhi immagina il tuo futuro e inizia a costruirlo oggi scopri tariffe e programma su basketballstarscamp.it e prenota subito la tua vacanza di basket agli indirizzi in sovrimpressione benissimo rieccoci e allora andiamo verso un weekend anzi un tour de force per quanto riguarda il campionato di Serie B vero Mauro perché la tua Andrea Costa e la tua di coach grandi avrà prima il derby in casa con Faenza poi andrete a Civitanova Marche beh sono due partitine che puntini di sospensione un in casa col fattore Ruggi pur in un derby e una a Civitanova io lascio i puntini di sospensione e li faccio riempire a te sì li riempiamo dicendo che ne giochiamo una alla volta come abbiamo fatto fino adesso dai nel senso che domenica sarà sarà bello sarà un bello spettacolo prima di tutto perché sarà di nuovo un derby col pubblico seppur in parte quindi insomma riassaporare risentire un po' i rumori la gente i tamburi i fischi tutto quello che è pubblico è bello e ritrovarlo in un imola faenza con col giusto campanilismo che c'è con la giusta rivalità che c'è sarà molto bello sarà una partita molto complessa perché parliamo comunque di una faenza con una classifica oggi che non rende merito alla squadra che è parliamo di una squadra che ha vinto la Coppa Italia dando un segnale molto forte fin da settembre e qui la Supercoppa scusate per cui insomma quello sarà il nostro primo obiettivo concreto dovendoci ritrovare anche dopo insomma un periodo con un po' di acciacchi di malanni fisici poi ci sarà sicuramente l'infrastimana della Civitanova che sarà una partita molto complessa anche quella perché è vero che Civitanova è ultima è vero però che ha fatto mercato proprio qualche giorno fa aggiungendo Valerio Costa in playmaker è una squadra che comincia a essere assetata di punti quindi potrà non potrà più lasciare tanto in casa propria e onestamente l'ultima partita in casa che ha giocato contro Roseto il risultato finale non rende onore alla buona partita che hanno fatto perché sono andati sotto sì ma poi hanno avuto la forza di rientrare a mi sembra 7-8 punti con la palla in mano contro Roseto ecco non esattamente contro Ascolta Mauro io casomai ti faccio così perché mi piace farti rivedere la classifica se la regia può del campionato di serie B voi state già mettendo tanto tanto fine in cascina eccola la classifica perché l'obiettivo è quello comunque di evitare i play out però lì in quella compagnia come mi hai detto tu all'inizio si sta molto bene e l'obiettivo è l'obiettivo di alzare l'asticella e arrivare i play out incominciate a porvelo aspettiamo fine anno 2021 per poi casomai dircelo io credo che non sia giusto nascondersi come dicevo prima è giusto che ogni singolo elemento di una squadra e la squadra poi insieme è giusto che abbia le giuste reali ambizioni senza dover uscire dai propri binari vero che il nostro obiettivo è la salvezza vero che oggi abbiamo dieci punti sulla quinta ultima e non sono pochi dopo nove giornate però è anche vero che secondo me per rendere onore a quello che facciamo tutti i giorni bisogna anche sognare con il giusto equilibrio quindi se oggi siamo lì dopo nove partite che cominciano a essere un terzo di campionato quindi non è un dato attendibile però comincia a essere un dato sicuramente è perché sicuro qualcosa di buono abbiamo fatto ce lo siamo meritato quindi non vedo perché oggi noi non dobbiamo pensare di poter alzare di un grado mezzo grado quello che è l'asticella credo che ce lo siamo meritati ce lo dobbiamo bravissimo è proprio il pensiero che dentro di me avevo anch'io e tu l'hai rispecchiato anche a parole nella maniera migliore possibile resta con noi perché alla fine ovviamente ci salutiamo tutti insieme Francesca ritorna a te però con Daniele si ritorniamo a Daniele io parto leggendo una carrellata di messaggi e poi ti faccio una domanda perché ti saluta il tuo amico Fetta da Molinella e dice grande giocatore ma soprattutto grande persona e ancora Gabriele dice un grandissimo saluto e abbraccio al mitico Cincio giocatore e persona umanamente super ci manchi tantissimo il tuo giro a fine partita al paladozza di saluti abbracce e battute era unico sei sempre il vero cuore bianco blu una parte di cuore mi è rimasta lì alla fortitudo sicuramente è una delle esperienze migliori della mia carriera li saluto tutti col cuore veramente sono vicino e poi ovviamente Lollo che dice che ti ringrazia per essere rimasto e spera che arrivi tutto l'affetto di Ravenna che provano per te per la persona che sei ringrazio per il supporto sempre a Palazzetto adesso finalmente col pubblico si torna finalmente è un amore ricambiato lo immaginiamo dopo Enrico prima ha citato il cocktail di longevità agonistica facciamo vedere proprio di cocktail scusa Francesca una slide che abbiamo preparato ovviamente anche sulla carriera e i millanta punti realizzati da Daniele Cinciarini in tutti i campionati ho fatto un bel lavoro di ricerca per mettere insieme questi numeri bravo bravo Enrico ho fatto lavorare vai vai Francesca scusa bravo Enrico e bravo anche Daniele Cinciarini ma allora se tu dovessi preparare questo cocktail abbiamo detto ci servono chiaramente degli ingredienti allora ti chiedo quali sono i tre ingredienti principali per poter avere una carriera di questo tipo a questi livelli per così tanto tempo la prima la voglia di sacrificarsi di mettere il basket non solo come passione ma proprio al primo posto tanto che da pensare solo a quello il primo è pensare solo alla pallacanestro quindi sacrificio poi la mentalità perché la testa ti porta dove vuoi e poi ecco anche io metterei come cosa principale anche una buona dose di fortuna perché ovviamente molti problemi li puoi evitare come ad esempio certi tipi di infortuni se riposi bene se mangi bene una serie di cose per te l'alimentazione è anche molto importante lo so l'alimentazione è davvero importante ma anche il sonno il riposo non solo adesso ma è costruito prima io questo l'ho sempre fatto e adesso sto raccogliendo un po' ecco i frutti di quello che ho fatto tanto stretching adesso mi sto avvicinando anche allo yoga allo yoga che mi sta che mi aiuterà sicuramente però ecco se dovessi scegliere proprio la cosa cardine il punto cardine è la testa la testa è fondamentale ma ascoli ascoli Francesca io dico che possiamo far vedere anche questo dato guarda mi avvicino come un maestro a scuola no è sperita erano 3.001 punti in serie a 2 quindi vuol dire che è evalicato 3.000 punti in serie a 2 proprio nell'ultima partita con Sansevero una piccola chicca che abbiamo voluto dare casualmente trasmettere ai giovani questo qui ha fatto 3.000 punti in serie a 2 e infatti e infatti questa lista di ingredienti diciamo è quello che ogni giovane cestista probabilmente dovrebbe mettere da parte e cercare di sviluppare ma tu ti ritrovi tu giovane cinciarini di allora ti ritrovi nei giovani di adesso o pensi che ci sia qualcosa che manca ai ragazzi di adesso ma ti dico io adesso abbiamo molti 5-6 ragazzi che si allenano con noi e fanno anche il campionato nazionale e molto spesso mi fanno arrabbiare perché è totalmente strano c'è una spaccatura c'è stata rispetto io mi ricordo giovani totalmente differenti da me Jacopo e lo stesso Guido Rosselli ne abbiamo parlato anche quando ci siamo incontrati in che cosa? è diverso perché non c'è voglia di sacrificarsi niente il basket è un divertimento e basta ci si incontra con le persone non c'è ambizione scarsa scassità d'ambizione e tutto è subito e tutto è subito sì non si è disposta a sacrificarsi ecco ritorno sempre lì però il sacrificio purtroppo piace di più stare in compagnia poche ore in palestra vedo anche da noi qualcuno ha buone possibilità però dico non è che fa cinque ore in palestra come io ne facevo tre la mattina il pomeriggio poi Pasquale mi ha avuto anche in nazionale quindi i ritmi erano altri adesso quando fa i giovani fanno due ore di allenamento e pochissimo con la prima squadra già o sono infortunati o si lamentano io ci rimango perché comunque vengo da anche da anni in cui gli stessi anni di Eurolega in cui non c'era mai pausa ecco e non ci si lamentava ci sacrificava però ecco c'era l'ambizione quindi vorrei aggiungere una cosa quando io lo chiamavo in nazionale con il nazionale Juniores allora lui era un anno più giovane oltretutto come Jacopo e ne parlavamo con Boccia Tanevici di lui che mi diceva di chiamarlo in nazionale perché dice perché lui è uno che è molto bravo ad andare in avvicinamento al canestro è molto bravo ad usare il corpo e a prendere fagli ed è forte come un toro gli mancava il tiro da fuori adesso vedo che a fine carriera finisce col 50% da tre questo non è altro che figlio del lavoro e di ore e di ore di allenamento esatto posso aggiungere che vabbè ho avuto anche la fortuna sapete tutti ho anche il fratello che ancora continua a giocare ma anche lui giocherà tanto sono convinto sono cresciuto proprio con lui sul campetto e proprio io c'erano questa caratteristica qui cioè di avvicinarmi molto a canestro molto forte fisicamente però mi mancava il tiro allora per arrivare a certi livelli il tiro serve cioè non puoi prescindere dal tiro quindi io tutte le mattine ma anche l'estate alle 7 di mattina con mio papà e con mio fratello andavamo a tirare a farci il mazzo quindi il sacrificio era sacrificio ma c'era la passione ai giovani di adesso manca il sacrificio quindi questo è il messaggio che vogliamo dare a tutti i ragazzi dovete sacrificarli sacrificatevi siate ambiziosi esatto due parole non è difficile assolutamente sì siamo veramente in chiusura io volevo chiudere Correnato non so se c'è qualche messaggio l'ultimo messaggio eventualmente da leggere a tuo modo di vedere ma guarda Enrico ce ne sono ancora tantissimi diciamo che una provocazione di un nostro telespettatore era riferito al fatto che forse ci potessero essere degli screzzi tra allenatore e giocatori ma tu Renato ci hai detto che in realtà non esistono problematiche di questo tipo infatti chiudiamo proprio con questo hai fatto bene Francesca perché l'ultimo messaggio che voglio dare secondo me il lavoro di un allenatore si giudica da quello che anche noi non vediamo cioè in palestra come la squadra continua ad essere sintonizzata sulla sua lunghezza d'onda in questo momento rapporto squadra dell'agnello chiudiamo così perché insomma mi sembra giusto fin da quando avevamo pensato di prendere Sandro una delle valutazioni che avevamo fatto è stata proprio quella che lui è una persona autorevole senza essere autoritario ed ha un ottimo rapporto con i giocatori e continuo a ribadirlo e sono convinto che proprio in virtù di questo rapporto che c'è fra giocatori e allenatore ne verremo fuori anche quest'anno allora Francesca io credo che è la cosa migliore da fare poi vieni con me e salutiamo gli ospiti su un messaggio che è testè arrivato eh sì mi è arrivato proprio ora da parte di Davide che lo ringraziamo e dice che cos'è la sconfitta nient'altro che imparare nient'altro che il primo passo verso qualcosa di meglio Alé Fourlet bel messaggio però questo eh io credo che Fourlet deve imparare molto e quindi finalmente qualcuno un po' più possibilista un po' più positivo però dovete imparare ancora molto ma infatti è quello che diceva Michael Jordan quello che diceva Michael Jordan o si vince o si impara noi speriamo di imparare qualcosa dalla partita di ieri sera allora noi abbiamo approfittato del fatto che siamo oggi eccezionalmente sul canale 11 per andare non lunghi lunghissimi di questo io ringrazio tutti quelli che sono stati in regia ovviamente qui al in studio con noi per la disponibilità che ci hanno concesse ma soprattutto Francesca salutiamo i nostri ospiti a partire da qui chi è qui in studio certo allora a partire da Daniele Cinciarini grazie grazie mille grazie a voi dell'invito grazie anche a Renato Pasquali buonasera a tutti grazie a voi poi in collegamento poi in collegamento ovviamente Mauro Zappi grazie grazie mille per questo collegamento grazie a voi a presto che è il primo perché poi dopo ci verrai a trovare veramente anche in studio per parlare di un altro momento della stagione della tua Andrea Costa quando volete quando volete non c'è problema grazie davvero e io vi do appuntamento Francesca questa volta regolarmente a martedì prossimo per la seconda puntata del mese di dicembre poi ve lo voglio dire noi andremo in onda sia il 7 che il 14 ci prenderemo una pausa il 21 di dicembre per poi tornare regolarmente in onda il 28 perché sarà la puntata pre-derby tra basket Ravenna e pallacanestro for lì quindi il 28 saremo regolarmente in vostra compagnia grazie mille buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti